Topic microfibre di cheratina è il miglior prodotto contro il diradamento dei capelli Topic è adatto ai capelli di uomo e donna, resista la pioggia, sudore e vento e si elimina con un semplice shampoo Le fibre di cheratina Topic aderiscono ai capelli grazie alla carica elettrostatica facendole apparire subito più corposi e coprendo le zone diradate Le fibre di cheratina Topic sono disponibili nei seguenti formati Topic 3 grammi che consente un paio di applicazioni Topic 12 grammi che può essere utilizzato per un mese Topic 27,50 grammi arriva a durare 3 mesi Topic 55 grammi supera i 5 mesi di applicazione Le polverine dei capelli Topic sono disponibili in 9 colori Nero, castano scuro, castano medio, castano chiaro, rosso, biondo, biondo chiaro, bianco e grigio L'applicazione di Topic è molto semplice e lo è ancora di più utilizzando i pratici accessori Puoi provare il Topic Set esclusiva di Capellissimo per i suoi clienti Segui il nostro canale Youtube e compra Topic dal sito capellissimo.com Avrai la certezza di acquistare un prodotto originale e sicuro Approvato dalle autorità sanitarie in 110 paesi del mondo Le polverine per capelli Topic microfibre di cheratina coprono la calvizia dell'uomo, le semplature e la chierica Topic funziona anche in caso di ingradamento dei capelli nella donna Riempiendo la parte alta della testa Il suo risultato naturale rende impossibile vedere l'esistenza di questo trucco Nella descrizione in basso troverai il link al Topic blog E tutte le risposte alle domande che potresti avere sulle polverine per capelli Topic Italia è disponibile sul sito capellissimo.com Può acquistare le fibre di cheratina Topic in uno dei loro formati Oppure approfittare dell'offerta Topic Set Che combinano le microfibre di cheratina e gli accessori più utili Oppure approfittare l'amore